Chiara Ferragni senza Fedez, l'importante traguardo Chiara Ferragni senza Fedez, l'importante traguardo Raggiunge un traguardo inaspettato. Chiara Ferragni si trova attualmente in Francia per la Fashion Week parigina, e sta quindi trascorrendo le giornate senza il suo Fedez In realtà per Chiara ci sarebbe stato comunque poco tempo per pensare all'amore, la bionda fashion blogger è infatti molto impegnata con i suoi numerosissimi eventi mondani, tra cui anche un'importante sfilata a ridosso della Torre Eiffel, come ha voluto mostrare anche attraverso molte foto e video caricati sui suoi social Oggi inoltre è stata una grande giornata per Chiara, in quanto le è stato dato un grande riconoscimento, Forbes l'ha infatti eletta come influencer numero uno al mondo La Ferragni ha comunicato ciò proprio pochi minuti fa, inserendo una sua foto sulle sue Instagram Stories. In seguito a tale notizia saranno costretti a tacere tutti gli haters che la davano per spacciata in seguito all'apertura del suo famosissimo blog Chiara è infatti riuscita in pochi anni a costruire un vero impero, tra collezioni personali, collaborazioni con i più importanti brand di moda, l'apertura di centinaia di negozi che portano il suo nome, tra cui ben due nella capitale del fashion italiano Milano, più di 10 milioni di followers su Instagram e la montare di un patrimonio che supererebbe i 9 milioni di dollari Chiara Ferragni e il nuovo riconoscimento, la settimana senza Fedez Per Chiara Ferragni comunque le cose starebbero andando a gonfi e vele anche dal punto di vista amoroso, la sua relazione con il rapper Fedez sembrerebbe infatti non conoscere crisi, anche se attualmente i loro fan non li hanno visti insieme come di solito Il cantante è infatti attualmente molto occupato in Italia sia con la campagna pubblicitaria per un'importante azienda di vestiti sia con il talent X Factor, in cui ricopre come sempre il ruolo di coach, mentre la sua compagna Chiara è volata due giorni fa a Parigi, in occasione della Fashion Week La coppia inoltre, stando a quanto scritto da numerosi siti di gossip, starebbero anche aspettando un bambino e sarebbero quindi di conseguenza prossimi al matrimonio Fedez aveva chiesto la mano di Chiara durante la tappa del suo tour all'Arena di Verona questa estate, ma gli impegni di entrambi avevano fatto slittare continuamente la data dell'evento Fedez avrebbe però deciso di concedersi una pausa dal suo lavoro, molto probabilmente per dedicarsi alla sua futura moglie e al presunto bambino che dovrebbe nascere intorno alla prossima primavera Fedez avrebbe per l'evento